Ecco come aumentare i tuoi followers su TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, eccetera, semplicemente utilizzando una t-shirt. Quello che sto per mostrarvi è un prodotto veramente intelligente e ora vi spiegherò anche i motivi. Innanzitutto vediamo di cosa si tratta, ovvero una semplice t-shirt ma con un potenziale enorme. Come funziona questa t-shirt o queste t-shirt? Praticamente sono universali, come potete vedere c'è una scritta follow me e sotto uno spazio bianco su cui è possibile andare a scrivere il tag del social network su cui noi vogliamo crescere. Come immagino voi già sappiate follow me significa seguimi che collegato al tag che voi avete scritto sotto fa intendere che bisogna andare a seguire quel determinato profilo. Lo spazio bianco vi permette per l'appunto di scriverci sopra con pennarelli indelebili, colori acrilici o non so, vedete voi. Il bello è che potrete essere creativi e personali sulla tipologia di scritta che andrete a realizzare e sui suoi colori. Ora parliamo del perché acquistare questa maglietta e di quando ci può essere utile. Il perché acquistarla è molto semplice. Si tratta di una t-shirt dal prezzo molto basso che una volta acquistata può essere riutilizzata e riutilizzata per attirare nuovi followers come una pubblicità che non ha più fine. Una pubblicità, una promozione gratuita a differenza di quella che solitamente si tende a fare su internet dove periodicamente bisogna andare a pagare una top cifra. È come avere un volantino o un cartellone pubblicitario in continuo movimento che può essere visto da un'infinità di persone e questo non è nemmeno l'unico utilizzo che si può fare di questa maglietta. Infatti ora voglio farvi alcuni esempi su quando utilizzare questa maglietta. Banalmente quando camminate, quando vi trovate ad un evento come spettatore o come protagonista quindi quando siete in mezzo a un gran numero di persone. Indossatela nel mentre state bloggando o nel mentre state registrando un video all'aperto questo porterà le persone incuriosite a visitare il vostro canale o il vostro profilo. Indossatela in un vostro video recensione, in un video con un altro tema nelle fotografie che pubblicate sia da soli che con i vostri amici. Non solo fare questo porterà dei nuovi spettatori ai vostri contenuti ma vi darà modo anche di creare una specie di copyright, di filigrana sui vostri contenuti. Questo significa che se qualcuno andrà a riutilizzare, a ricaricare i vostri contenuti altrove ci sarete sempre voi con la vostra maglietta e la scritta che ricondurrà al vostro profilo. Sono sicuro che questa tipologia di maglietta può essere utile o utilizzata anche in altri casi che attualmente non mi vengono in mente e che sarei contento di sentire direttamente da voi nei commenti. Veloce piccola aggiunta, se siete ad esempio in discoteca e volete essere notati può funzionare. Dove si possono acquistare queste magliette? Molto semplice, su Amazon. E quindi avete anche dei vantaggi come la spedizione veloce e il reso in caso di un prodotto non vi soddisfo. Per trovarle vi lascio il link in descrizione e se no andate a scrivere il titolo del prodotto vi apparirà. Per chi se lo stesse chiedendo, io sono Boap, vi ringrazio per la visione e vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video che spero vi lascia a bocca aperta. Un saluto!